Siamo arrivati alla 116esima edizione, la prima manifestazione a Verona è stata fatta nel 1898, dunque una fiera che ha una storia lunghissima, tanto da raccontare, che è cresciuta nel tempo e ci presentiamo davvero con tante novità, una fiera sempre più internazionale con 780 espositori provenienti da 20 paesi. È stato fatto anche un grande lavoro sull'incoming dei buyer, grazie anche all'aiuto dice l'agenzia, paesi target, dunque l'Africa, l'Asia, i Balcani, l'ex Unione Sovietica e il Sud America. Abbiamo fatto davvero un grande lavoro anche per riuscire a coprire tutte queste aree che sono di grande interesse anche per tutte le aziende che producono Made in Italy, che ricordo un settore, quello agricolo, che in Italia vale 600 miliardi di euro e che ha un export di 60 miliardi. Manca da due anni, fiera agricola, dunque abbiamo fatto un lavoro in questi due anni, davvero ci siamo rimboccati tutte le maniche, uno staff di fiera agricola che ha lavorato davvero in maniera incessante, girando tutta l'Italia, proponendo tutte le novità che andremo a presentare nel nostro quartiere feristico con una importante presenza anche del governo. Avremo il ministro Lollobrigi dall'inaugurazione, tanti dibattiti, format innovativi per presentare tutti i nuovi prodotti anche d'avanguardia a chi verrà a trovarci nel nostro quartiere feristico a Verona.